Ho scritto anche oggi un pezzo sussidiario piuttosto duro nei confronti della RAI di cui sono stato consigliere e dico ma com'è possibile che vi siete trasformati in mezzi di disinformazione di massa? Perché ho preso accuratamente nota della gerarchia delle notizie del Tg di due giorni fa, delle 20, era una roba spaventosa, tutte queste cosucce notiziole hanno ritirato fuori due volte, figurati, e Matteo Messina Denaro che è morto un mese fa piuttosto che la strattativa stato mafia e poi piccoli fatterelli di cronaca e poi hanno gonfiato a dismisura questa storia della pizzeria e poi la Ferragni e poi il Pandoro, cioè è una roba spaventosa, spaventosa, dico ma come non ci dite niente di una rivolta che ricorda la Jacquerie del 1380, 1340 quando in Francia si ribellarono i contadini, il 1380 in Inghilterra, ma delle cose, l'ultima rivolta contadina così grossa è successa così tanto tempo fa nel Medioevo, vi rendete conto? Certo. Eppure su questo non una parola, ma questo è di una gravità senza precedenti, senza precedenti che il servizio pubblico, però guarda caso si sa che è stato un ordine di Klaus Schwab di assolutamente non dare queste notizie per paura del contagio, fortunatamente dico io il contagio sta andando avanti e guarda caso, allora per finire, l'AfD, Alternative for Deutschland che viene aggredito come movimento neonazista che non è vero, è soltanto un partito ultraconservatore, sta raccogliendo una massa di voti perché è presente in tutte le 22 città dove ci sono le manifestazioni, stanno con gli agricoltori, si battono contro questa Europa che ci vuole far mangiare i grilli, la carne sintetica, ci vuole mettere sotto un controllo poliziesco eccetera eccetera e a questo punto le Figaro finalmente ieri si interessa della cosa, ma mezza pagina è dedicata alla ipotesi che l'AfD possa venire messa fuori legge prima delle elezioni, hai capito a che punto? Esatto, quindi siamo a un livello di guardia veramente altissimo Esatto